Programmazione territoriale, piano di rilancio del Nurese, programmazione strategica dell'area del Parco di Tepilora sono questi tre assi su cui vuole puntare l'Unione dei Comuni del Montalbo per creare ricchezza e occupazione. Il progetto è stato definito alla presenza dei sindaci dell'Unione del Montalbo e degli assessori regionali al bilancio Raffaele Paci, all'ambiente Donatella Spano e agli affari generali Filippo Spano. Qui nel Parco di Tepilora abbiamo organizzato una programmazione territoriale particolare perché ci sono tre livelli che si uniscono insieme la programmazione territoriale che stiamo facendo in tutta la Sardegna, il piano di rilancio del Nurese e appunto la programmazione strategica dell'area del Tepilora. Quindi con l'Unione dei Comuni del Montalbo si è lavorato per circa un anno ed è stato definito un importantissimo progetto di sviluppo di tutta l'area che appunto si basa principalmente sulle ricchezze naturali di Tepilora e punta a sviluppare dal punto di vista turistico questa area portando ricchezze, portando occupazione. Siamo molto soddisfatti di questo risultato raggiunto perché è una continuità con un riconoscimento internazionale importantissimo che è quello dell'area UNESCO, quindi del MAB, del Parco di Tepilora, area del Montalbo. L'accordo sul Parco di Tepilora è di fatto la realizzazione di uno di questi elementi che hanno costruito poi la base del piano del Nurese è una comunità molto coesa che sa precisamente dove vuole andare, ha creato prima il parco e adesso crea un progetto di sviluppo che all'interno del piano del Nurese e della strategia sorretta dai fondi comunitari dice andiamo verso questa strada con questi progetti precisi che intendono fare del territorio un elemento di attrazione ma anche di conservazione.